Buonasera a tutti e benvenuti per la decima puntata della stagione duemilaventidue di Speedstop, il podcast pop di Formula 1 analisi tecnica in onda e in diretta ogni lunedì alle diciannove e trenta. Ci trovate su Facebook, su Twitch, su YouTube in diretta, ci trovate in podcast su tutte le principali piattaforme, Spotify, Apple Music e così via, quindi veramente siamo ovunque e speriamo di raggiungere sempre più persone interessate alla Formula 1 o interessate magari anche a sentire un po' quelle che possono essere delle opinioni del dopogara da parte della redazione di Formula 1 si tecnica, di suoi ospiti, ma appunto da un punto di vista un po' più leggero, un po' meno necessariamente tecnico e per darvi un po' un overview generale di quello che è stato il weekend di gara. Vando alle ciance, come al solito non sarò da solo, con me dalla redazione c'è Mariano Froldi. Ciao Mariano. Buonasera, buonasera a te Marco e a tutti gli amici e le amiche all'ascolto, insomma benvenuti a questo Miami non mi ami che insomma è così. Esatto. Miami non mi ami, sì lo so, è la freddura della giornata. Non è andata così bene per la Ferrari. Qui diciamolo chiaramente non siamo a Miami ma c'è comunque tanta luce ancora a quest'ora, finalmente arriva ormai quasi l'estate, non siamo registrati, rigorosamente in diretta come sempre, eppure insomma grazie a Dio adesso le giornate cominciano ad allungarsi, ci godiamo un po' più di luce che detto da uno che vi garantisco ha vissuto un periodo in Svezia, la questione della luce a un certo punto pesa pesa nelle giornate, assolutamente pesa così come posso dire pesava ieri sera vedere la gara di Miami ad una certa ora perché comunque tutto il rispetto, io resto affezionato, scusa Mariano questa fammela dire perché è una roba che c'ho qui proprio, ma per me il gusto della pasta asciutta durante la partenza è una roba molto italiana ma meravigliosa, infatti quando avevano cominciato a dire si parte alle 15 invece che alle 14, le 15 e 10 addirittura, mi ero proprio una pugnalata perché mi avete tolto questo rito nostalgico del pranzo magari con gli amici appassionati a vedere la Formula 1 tutti insieme. Vabbè ma ieri potevi fare la cena voglio dire, no? Cioè la cena, ieri erano le nove. Ah io è vero che sono terrone però, no era le nove e mezzo la gara. Ah nove e mezzo? Vabbè io ero in mezzo al mare disperso, non potevo prendere nulla, di nulla nel senso che proprio eravamo lì fra Marsiglia, anzi no, fra Barcellona e Cagliari e quindi non potevamo vedere neanche corrompere il bordo per sapere qualcosa. Insomma giusto Whatsapp, arrivava ogni tanto qualche comunicazione, insomma poi abbiamo visto la... Vabbè. Guarda mi fai venire in mente due cose, anzi oggi abbiamo cominciato in maniera così molto leggera, per dire in primis che è capitato anche a me ieri per la prima volta dopo tantissimi anni di non poter vedere la gara in diretta, quindi l'ho vista indifferita verso mezzanotte, quindi anche per questo sono queste occhiaie, di vedere la gara che erano quasi le due, ma proprio con quell'ansia, anche se avevo un impegno importante ieri sera, proprio telefono in modalità aereo per non avere spoiler da nessuno, radio spenta in macchina, ritorno, nella serie devo isolarmi totalmente e però insomma devo dire non è stata così male come esperienza francamente, poteva andare molto peggio, così come mi fai venire in mente tu a proposto di dire vedere la gara in mezzo al mare, la crociera eccetera eccetera, mi ricordi... Il vero mare, il vero mare, sì. Mi ricordi una bellissima gara di Formula 1 che io ho visto proprio, pensa ero in traghetto per venire in Sardegna, nella tua terra, l'estate, in vacanza, era il 2014 e praticamente insomma questo traghetto era leggermente in ritardo, io puntavo di essere già sulla terraferma per la partenza, mentre mi trovai ancora sul traghetto quando stava per partire il Gran Premio di Budapest del 2014, la gara in cui Fernando Alonso con quell'aspirapolvere che altro non era, la F14T, l'unica vettura della storia della Formula 1 in grado di sovrasterzare e sottosterzare contemporaneamente. Ha rischiato pure la vittoria. Ha rischiato la vittoria, quella gara fu memorabile, io ricordo che una volta sceso poi dalla nave costrinzi praticamente i miei compagni di viaggio a rimanere fermi nel parcheggione lì al di fuori del porto, perché la mia paura era di così, poi noi se ci avviamo in mezzo insomma alle lande desolate che dovevano portarci in un posto sperduto per la vacanza, dico ma quando mai prenderà decentemente la connessione e mi perdo la gara? e quindi sono rimasto fermo in quel parcheggio a soffrire fino alla fine col sorpasso di Ricciardo a due giri al termine, però insomma sono quelle robe, per quanto sofferte di cui poi ti tieni sempre un bel ricordo, ma arriviamo a noi. Gran premio di Miami, un'altra pista di merda, lo possiamo dire? Possiamo partire subito così a cannone. Potremmo mettere su Twitter contenuti espliciti, non su Twitter ma sui podcast, caro mio, Apple lo sai che è molto attenta su queste cose, non solo Apple, un po' tutti, se no devi mettere la E, contenuti espliciti. Me lo dovevi dire prima, ma allora adesso posso dire un sacco di parlacce, ce le giochiamo tutte quante alla fine, no, niente, tagliamo questa, mi bippi dopo, mi metti un bippo. Fate conto voi che avete ascoltato, che non avete ascoltato nulla, gli ultimi due minuti non considerateli per il processo, insomma. Fantastico. Allora, diciamo intanto questo, abbiamo tanto criticato Jedda, non possiamo fare diversamente qui, perché parliamo... No, ma Jedda gli fa 10 a 0 a questa per la sicurezza, ragazzi, cioè siamo arrivati a questo paradosso, siamo arrivati a... Vai, sfogati subito! Siamo arrivati a paradosso, che baco in confronto, che ne so, è il circuito perfetto, più sicuro di questo mondo, di cosa parliamo? Allora c'è quello là che si è rotto il bacino facendo finta, facendo... su YouTube circola questa roba qua, no? Cioè c'è uno che si è buttato sul mare finto, con i panfili finti, e si è fratturato il bacino. Non lo so se... Aspetta, questa non la sapevo, cioè si è fatto male? No, non lo so se si è fratturato. Giusto per esagerare in senso fantoziano, però... Ah no, io l'avevo presa tipo meme, che insomma... No, no, si è fatto male, ti è sicuro che è uno di quelli tipo dei jackass, sai conosci, si fanno male apposta, ha fatto una roba del genere, però è stata una testimonianza, un'operazione verità, per farci capire quanto fosse tamarra questa roba qua. Io non capisco perché quando dobbiamo cercare di, diciamo, far sì che la Formula 1 sia apprezzata negli Stati Uniti, non facciamo quello che fanno tutti quando un grande marchio, cosa ti posso dire, deve durare nel tempo, mantenere la propria originalità. Certo, cambiare in qualcosa, ma il suo, la sua sostanza non cambia. Per tutti i brand funziona così. La Formula 1 quando va negli Stati Uniti, no, deve americanizzarsi nel senso della formula indie, dello spettacolo, della trashata pazzesca. Rasterà memorabile sempre i caschi del football americano, come abbiamo visto sul podio, meravigliosi, adesso io dico io perché? Ma almeno ci avessero tenuto le ombrelline, visto che in America ci sono. Almeno quello, e no, perché siccome se tu metti le ombrelline significa che tu stai sfruttando il corpo della donna, e manco gli ombrellini perché se potessi il corpo dell'uomo, allora a quel punto devono travestire i piloti. E quindi, insomma, sì. Perché poi era una roba, alla fine, la personalizzazione lì, diciamo, del casco slash cappellino Pirelli, l'avevamo già vista da tanti anni in Texas, insomma, c'è anche i 12, no? Sì, con il cappello da cowboy. Però era una roba che hanno a che fare con l'americanizzazione nel senso del terriore del termine. Però era meno una cafonata quella. Era meno una cafonata perché più ci stava, nel senso che comunque potevi fare il parallelo, il cowboy, insomma, il cavallo, la monoposto. Qua che fai? Cioè, stai dando dentate a qualcuno, stai dando ginocchiate, hai il pallone ovale, tipo ogni maledetta domenica, film meraviglioso che consiglio a tutti, regia di Oliver Stone, se non ricordo male, ritmi adrenalinici, ogni tanto lo rivedo per casarmi. E comunque volevo dire, sì, però parliamo di Miami che non mi ami. Ecco, caro Marco, noi ferraristi sappiamo che quando la Ferrari, accettuato il biennio, il quinquennio d'oro, parte in prima fila, statisticamente quasi mai vince. Cioè, se c'è tutta la prima fila rossa, sai, noi siamo riduci anche da Singapore, tu puoi capire il dolore terribile, eh, quando c'è la prima fila, noi non siamo contenti, tocchiamo qualsiasi cosa abbia un valore magico, un valore mistico, qualcosa che eviti, insomma, che ci protegga. Lì però non era la prima fila, lì non era la prima fila tutta rossa però. La prima e terza, non mi ricordo. La prima e terza, se non erro, sì, sì, sì. Sì, però voglio dire... Per carità, però allora aspetta, diamo un cappello introduttivo, qualora qualcuno non avesse visto quello che è accaduto questo weekend, diamo un po' di contesto. La Ferrari monopolizza la prima fila con Leclerc e Sainz e inqualifica il sabato a Miami. Ci si prepara quindi ad una gara potenzialmente trionfale per la rossa di Maranello, con l'apo Elkan al box a proprio... E manco il giro veloce abbiamo fatto. Ecco, a proposito di grandi citazioni, quella è ragione però, Elkan. Esatto, hai ragione, quella è ragione. Ti devo correggere. Leclerc e Elkan sono fratelli. Per carità. Io, tra l'altro, scusami, questa la devo sempre raccontare, ricordo con interesse, piacere, usate voi l'aggettivo e preferite. Quando io sono stato nel paddock della Formula Monza del 2019... Bravo, anche io l'ho visto, sì, bravo. ...ospite l'apo Elkan, fu... Allora, se c'eri anche tu, non ci conoscevamo ancora... No. ...potrai confermare... Il viaggio più amato e più giocato nel paddock... E' amabile, perché comunque non è una persona assolutamente lontana, ecco. Non solo da parte dei presenti, dei fan, degli ospiti, ma anche proprio dalla... Cioè, io ho visto tutte le persone che lavoravano in Ferrari, dal meccanico a quello che fa da buttafuori per l'ospitality, un calore, un affetto nei confronti di l'apo incredibile. Ci tenevo a dirlo, perché al netto di quello che si possa pensare sul personaggio, questo fa capire come a volte degli uomini, delle persone, dei personaggi, appunto, spesso etichettati in maniera magari negativa, o quando si sottolineano determinati aspetti della vita esagerati... Sì, ma anche perché... In realtà poi avvicinano molto le persone. E' cos'è terribile, Marco, in Italia. Adesso è un piccolo escuso. In Italia non si perdona mai la ricchezza di potere. Nel senso che l'apo ha commesso molti eroi nella solidarietà. Tra l'altro ne ha sempre parlato in maniera molto trasparente, e questo gli fa onore. Eppure si ricorda sempre quello e non si ricorda quanto si è impegnato, ad esempio, nella solidarietà, quanto si è impegnato in tante opere meritorie. Andate a vedere le sue fondazioni, le cose che fa. Voglio dire... Volevo dire proprio... Vedi, in America, scusa Marco, chiudo. In America, invece, è vero che puoi cadere dalle stelle alle stalle, eppure negli Stati Uniti incredibilmente c'è sempre l'opportunità. Cioè il fallimento o l'errore vengono accettati, perché possono essere anche prodromici per... Storie di riscatto. Storie di riscatto, sì. Da questo punto di vista ammiro gli Stati Uniti. No, no, assolutamente. Però diciamo, ecco, voglio dire, al netto poi delle cadute mediatiche anche importanti che ha avuto l'Apo, non so, carriera, e chiediamo la parente... Ha rischiato la vita e lo sappiamo. Entra poco con la Formula 1, insomma. Però voglio dire che, secondo me, invece, proprio il fatto di essere più volte caduto, di essersi sempre rialzato, è proprio ciò che lo rende più amato dalle persone... Quello che avremmo definito l'uomo della strada, insomma. Io ti giuro, ho visto un affetto nei confronti l'Apo, mi ha colpito tantissimo, perché quantificarlo è difficile. E il modo in cui lui ci teneva a fermarsi con ogni persona, magari a far la foto, a stringere le mani, un calore, un affetto impressionante. Qui l'Apo è geniale. È chiaro che l'Apo è geniale. Basta capire come si è mosso le cose che ha fatto. È geniale. Ha un grande estro artistico, questo si sa. Comunque, tornando a noi, quindi nonostante la sua presenza nel box come un po' portafortuna, e a Monzo 2019 l'aveva portato bene, in effetti. Tu pensa che non ci fosse stato, eh? Ecco, dici a maggior ragione. Qui abbiamo avuto un Verstappen scattato veramente come un fulmine, ma più che altro, diciamo che, avendo visto un po' anche, come dire, la poca distanza dalla griglia di partenza alla prima curva, se hai un discreto stacco di frizione dalla seconda fila, obiettivamente Sainz come faceva a difendersi più di così? Cioè io voglio leggermente scaggionarlo. Nel senso molti hanno detto, eh certo, però, avesse coperto un po' meglio la partenza, magari teneva dietro Verstappen quei 3-4 giri, almeno finché non avevi il DRS, Leclerc se ne andava, vedevi un'altra gara. Assolutamente vero. Va anche detto, però, che in primis, appunto, come dire, l'iperassurdo essere all'esterno, come era Verstappen, comunque dal lato pulito, lo ha quasi favorito più dell'essere in seconda fila, piuttosto che in prima, oltre al fatto che chiaramente poi, come dire, Sainz doveva anche evitare eventuali contatti con Leclerc, insomma, era una situazione scomoda, e in ogni caso non ci dimentichiamo che a Verstappen, per passare Leclerc, sono passati 9 giri, di cui appunto i primi 3 senza DRS, e che lo ha passato, tra l'altro, non in fondo al grande rettilineo di DRS, dove abbiamo visto la maggior parte dei, non moltissimi, sorpassi di giornata, ma lo ha passato sul primo dritto, sul dritto del rettilineo di partenza, il che vuol dire che comunque ne aveva talmente tanto di più nel T3 da poter uscire così forte dalle ultime curve lente per poi arrivare prima di quella sorta di S serpentone che dà sul dritto, ad averne tanto tanto di più col DRS, cosa che poi abbiamo visto nel finale di gara, Leclerc non è mai riuscita, Leclerc al massimo arrivava intorno ai, anche a tre decimi arrivava a essere in fondo a rettilineo nella parte iniziale del T3, ma poi comunque quei tre decimi nelle curve lente andavano ad aumentare fino a far sì che quel DRS ulteriore non fosse di alcun aiuto per un attacco. Quindi rendiamoci conto di quanto ne aveva di più Max in quella fase lì. Di conseguenza anche avere un Sainz in mezzo, io non so quanto sarebbe stato utile alla causa, se lo sarebbe comunque tolto di mezzo nel giro di un paio di giri in più, considerando poi appunto che Sainz, così come Perez, ne avevano decisamente meno dei compagni di squadra. Non so come la vedi tu su questo, ecco la mia non voleva essere una difesa a tutti i costi di Sainz, però insomma... No, io mi permetto di dissentire. Io credo che Sainz, anche per motivi ragionevoli, cioè insomma si è piantato due volte, una si era colpa sua, l'altra no, ma comunque all'inizio del mondiale insomma di danni ne ha fatto e di punti ne ha fatto perdere alla Ferrari e quindi anche lì c'era il problema non posso fare più di tanto perché sennò mi danneggio di nuovo l'auto insomma appena partito. Però ragazzi, cioè, se davvero è un pilota di talento come è, ne siamo sicuri che lo sia, sa benissimo dove partirà Verstappen e dove tenterà l'attacco. Ergo, non è possibile essere così arrendevoli. È chiaro che Verstappen, la Red Bull di Verstappen, ne avessero di più e soprattutto sul dritto erano comunque ancora irraggiungibili. E qui cominciano a suonare già tanti campanelli d'allarme. Su questo ti ho avuto una domanda, tra poco vedo un commento arrivato in chat interessante. Però io dico, caspita, cioè, che gara avremmo visto se Sainz avesse fatto davvero, non dico ostruzione, a nostro parola di gol, ma comunque avesse tenuto dietro mentre Leclerc faceva da lepre e quindi si creava un bel cuscino. E poi può darsi che avremmo visto una gara completamente diversa perché non sarebbe bastato il tempo. Dico può darsi, poi come dici tu, all'anno giro se ne ha acchiappato. Ma tu pensi se fosse stato nove giri dietro a Sainz, le stappe? Non lo so. Cioè, è da valutare. Poi con i secondi, ma non andiamo a nessuna parte perché le cose sono andate come sono andate. Però di norma, quando tu hai fatto l'introduzione, giustamente, se tu hai una prima fila, hai una marea di chance per gestire tu la gara, non per metterti in difficoltà. Purtroppo in Ferrari c'è sempre questo quid che manca qualche volta, legato ai piloti, legato alle strategie, legato, insomma, voglio dire, anche alla fine potevano usare qualcosa di più. Sì, in occasione della safety car. Sì, perché comunque avevi una macchina che magari, tanto dovevano copiarti, perché comunque dovevano avere il tempo per copiarti, per coprirsi le spalle. Ma ammetti che non l'avessero fatto e la Ferrari si trovava con le gomme fresche. Beh, per quanto se avesse quei due o tre decimi in più a quel punto non ce l'avrebbe fatto. ma nel finale neanche lì, c'è l'attenzione, nel finale i tempi di Leclerc e di Verstappen erano assolutamente assimilabili. Ah, Leclerc dietro sembrava anche averne di più. Il problema è che poi da lì a fare un sorbato Sì, esatto, perché c'è un problema che ha questa Ferrari è l'efficienza aerodinamica. Il problema di questa Ferrari è l'efficienza aerodinamica, non il fatto che generi carico perché funziona, è un'ottima base questa monoposto, è nata molto bene. Ti faccio subito una domanda su questo. Ci chiede The King su YouTube Ferrari deve sviluppare altrimenti anche questo non è niente mondiale. In realtà non è una domanda, la trasformo io. No, io sono d'accordo. Allora, la Red Bull ha già portato dei micropacchetti che tutti assieme hanno fatto sì che la monoposto fosse più leggera, quindi più reattiva, anche al via e hanno aggiustato un po' di cose. In Ferrari praticamente stiamo correndo con la stessa monoposto dell'inizio del mondiale. Qualche correzione, sì, ma nulla di sostanzioso. È vero che Binotto ha detto noi ci siamo concentrati per portare tutto a Barcellona. Bene, però non mi è piaciuto neanche quando Binotto ha detto sperando che gli altri non portino qualcos'altro. Cioè, che carica dai tu alla gente? Voglio dire, siamo sempre lì. Binotto ha fatto una squadra su cui non possiamo dire nulla perché ha fatto. È una squadra di piloti costruita bene. Guarda che sta lavorando bene, che ha fatto un ottimo progetto. Però, voglio dire, non trasmetti, trasmetti la carica di un KLS. Detto questo, altra cosa importante, gli sviluppi. Sì, qua veramente, perché se Verstappen arriva, come hai detto tu, Marco vince. Non va bene, cioè... Aspetta, diciamola questa cosa perché ne parlavamo io e te prima di andare in diretta. Su cinque gare di questa... Ne ha cannate due con problemi. L'avrebbe vinto la Ferrari probabilmente. comunque non avrebbe vinto. Però il caso vuole che Verstappen in questo momento ha una percentuale di vittorie quando arriva al traguardo del 100%. Tre gare ha finito, tre gare ha vinto e nelle altre due si è ritirato mentre era secondo. Quindi, sono molto... Comincio a essere un po' preoccupato. Adesso sì, perché comunque ci vogliono questi sviluppi perché la base c'è e purtroppo noi serraristi negli anni abbiamo visto che la Ferrari non sapeva sviluppare. Ok, possiamo dire che hanno strumenti molto migliori e hanno una base migliore però metti che se cadano a Barcellona speriamo di no suppongo che non accada metti che caniamo lo sviluppo insomma oddio è già compromessa la stagione. Vedi ad esempio il caso della Mercedes che comunque sta provando ad accelerare in ogni modo. Ha sbagliato il progetto. Adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo hai ragione troppa carne al fuoco però io un'altra domanda su questo tema te la voglio fare ma secondo te quella che abbiamo della Ferrari adesso è una io l'ho chiamata crisi qui nel sottotitolo semplicemente per chiaramente sintetizzare una crisi con gli sviluppi nel senso di un ritardo comunque una tabella di marcia meno veloce di quella della concorrenza probabilmente o secondo te c'è anche una questione di circuiti sfavorevoli cioè si è detto magari Imola Jedda adesso Miami non erano circuiti in grado di valorizzare l'eccellenza di questa monoposto viceversa magari Melbourne o altri circuiti che arriveranno come ad esempio il Montmelò saranno molto più favorevoli a Ferrari però intanto molte volte si soavvertono i pronostici perché ad esempio abbiamo fatto la prima fila sai ci possono essere tutti e due i fattori nel senso che ci può essere un ritardo della Ferrari che magari loro avevano semplicemente programmato sia chiaro e poi ci possono essere anche dei circuiti sfavorevoli ma Miami non mi sembra aveva un circuito particolarmente sfavorevoli perché è un circuito che comunque ha molti allunghi e il motore Ferrari fa la sua certo c'è il problema come dicevamo dell'efficienza aerodinamica che ha la Red Bull e che ha in condizioni minori la Ferrari sembra esserci un tema in questo momento legato al fatto che per nei duelli Leclerc Verstappen Leclerc deve fare molta più fatica a passare Verstappen che non viceversa cioè è stata la chiave vera della vittoria di ieri non è stata neanche poi per via della safety car la velocità pura che comunque Verstappen aveva maggiormente soprattutto nella prima parte di gara ma proprio una questione relativa al fatto che Leclerc doveva tentare un sorpasso impossibile per passare cosa che no ma ieri Leclerc si è reso conto a un certo punto che andava benissimo avere il secondo posto sia in ottica mondiale sia mondiale piloti che mondiale costruttori certo resta il rammarico comunque di vedere una Ferrari che ancora sembra un po' non ogliata perfettamente in tutti gli aspetti mentre la Red Bull è già abituata vincere ci sta sono assolutamente d'accordo è un tema è assolutamente un tema e sarà appunto decisivo già nelle prossime gare io abbandonerei un attimo la questione della lotta mondiale anche perché insomma pare evidente che poi a far la differenza appunto sarà quello che avverrà nel corso della stagione e anche aggiungo io il tema affidabilità della Red Bull nel senso guarda che anche quello che è un tema sì sì ma anche Marx ha avuto proprio cioè noi dovremmo puntare nelle strategie diciamo militari in generale le strategie diciamo per conseguire un risultato contro un avversario si deve puntare sull'anello debole della struttura dell'avversario sui punti del punto debole della Red Bull è l'affidabilità ancora e quindi tu devi fargli alzare la sticella per fargli andare in crisi questo è d'accordo con te e quindi vedremo cosa riusciranno a fare in queste due settimane scarse avremo un weekend di pausa però abbiamo un corposo aggeramento speriamo tra l'altro stavo dicendo prima gara europea in realtà non lo è tecnicamente è Imola ma insomma si considera sempre un po' la gara del Mon Mono come l'inizio della stagione europea delle gare nella misura in cui comunque poi abbiamo diversi appuntamenti consecutivi più o meno in Europa poi in realtà fino a un certo punto perché Azerbaijan chiamarla Europa insomma siamo sempre nei misteri della formula 1 esatto ma è stato anche il gran femmine d'Europa comunque senti ma invece su chi c'è dietro so che tu hai sempre una grande attenzione su quello che avviene nei rivali storici chiaro in questo momento sei quest'anno penso che loro non ci considerino rivali ma ci considerino così così come dai dimmelo 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 d'altronde nell'era turbo ibrida insomma questi facevano ciao ciao facevano doppiato doppiando tutti due volte noi eravamo lì ad arrancare insomma abbiamo fatto mezza stagione un anno mezza stagione un'altra vincendo mettendoli in difficoltà poi quando hanno accelerato ciao stavamo scherzando ok number one sì sì siamo molto preoccupati dall'arra avevano sempre un discreto margine in ogni caso continua la crisi per la mercedes ma soprattutto per emilton diciamolo chiaramente perché comunque russell la pezza ce la mette sempre 5 gare su 5 in top 5 ieri nel finale addirittura un duello aperto tra i due con russell che diciamo si è trovato anche grazie a safety car ad avere una strategia migliore nel finale di gara emilton si è anche aperto in radio per lamentarsi di questo e quando si lamenta c'è stato sorpasso contro sorpasso ricontro sorpasso ma guarda della favola che alla fine però il principe George se vogliamo chiamarlo così si è messo davanti a Sir Lewis il 7 volte campione del mondo e comincia secondo me a emilton un pochino a rudere perché non è la prima volta che succede quest'anno era una volta le strategie un'altra volta la safety car adesso qui arriva il sorpasso in pista fatto sta che eravamo stati facili profeti quando avevamo previsto diciamo lo scorso ci avevamo già avuto qualche assaggio di rasse all'improvviso ti ricordi che poi gli usi era guarito completamente per tornare subito come no ti riferisci chiaramente al gran premio di Sakir del 2020 scusami il 2020 pardon avevamo già visto di che pasta era fatto il ragazzo cioè è chiaro che qui dobbiamo aprire una discussione cioè da una parte abbiamo una Mercedes che probabilmente non lo sappiamo ha sbagliato il progetto e perciò tenteranno immagino ancora di svilupparla tipo a Barcellona poi se la cosa non va bene si concentreranno per via del budget cup eccetera eccetera si concentreranno già sull'anno prossimo quindi potremmo vedere vittorie di tappa ma probabilmente poi beh di questo passo probabilmente probabilmente sì ma comunque saranno tagliati fuori dalla lotta al mondiale io dico il mondiale è ancora lungo il mondiale è ancora lungo 18 gare se non fosse così lungo avremmo già detto che ok non c'è tripa per gatti però c'è un altro problema in questo problema come reagisce Lewis Hamilton allora il problema è che non stiamo mettendo in discussione le qualità in discussione le qualità di Lewis Hamilton perché saremmo solo a farlo però c'è un problema Lewis Hamilton probabilmente quando ha la macchina performante fa anche qualcosa di straordinario quando deve remare accade è normale che il pilota vince se ha la macchina performante però abbiamo visto che gli altri molti altri piloti in altre circostanze sono riusciti a tirare fuori il cilindro il coniglio del cilindro ogni tanto invece Lewis Hamilton sembra proprio proprio anche la motivazione psicologica sì il che è strano perché ovviamente lui pensava quest'anno immagino dopo lo scippo dal suo punto di vista è uno scippo assolutamente almeno per l'ultima gara ok lui adesso spacco tutto vedete un po' quello che combiniamo e invece dove sono dove mi trovo chi sono cosa faccio cioè una situazione che secondo me non sta vivendo bene no no direi assolutamente di no tra l'altro sarà doppiamente frustrato dal fatto che anche ieri comunque in fine di gara si è trovato dietro Bottas che comunque fa un po' ridere la cosa fa un po' ridere la cosa una reminiscenza caro Marco c'era almeno la seconda o terza volta che succede in queste cinque gare cioè quest'Alfa Romeo a parte gli scherzi va forte le motorizzate Ferrari questa Sauber Ferrari va molto forte il problema mi sei piaciuto su questo il problema è che Bottas ogni tanto dopo tanti anni gli scatta il tic e dice ah no Lewis devo farlo passare il mio compagno di squadra poi oh porca no non lo è più i tac ieri se le ricordavo troppo tardi se le ricordavo troppo tardi meno male che non si è piantato insomma almeno però peccato perché mi sarebbe piaciuto vederlo arrivare davanti alla Mercedes sai che voglio molto bene la Mercedes perciò beh certo sì ho capito gli auguri il meglio questo è evidente assolutamente sì Mariano noi invece auguriamo il meglio a chi ci ha seguito finora a chi ci seguirà a chi avrà voglia eseguirci in futuro ma direi che la nostra mezz'ora è arrivata ormai al termine quindi bravissimo oggi proprio sei con citazioni proprio così ta 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 una macchina da guerra e quindi direi di rimandare un pochino l'appuntamento a lunedì prossimo avremo d'altronde quindi altri sette giorni almeno per parlare di questi temi visto che non c'è gara di Formula 1 domenica prossima ci sentiremo con calma per un'antepriva che è proprio di Barcellona magari parlare anche degli altri temi di Miami che non abbiamo affrontato oggi per questioni di tempo visto che abbiamo parlato solo di tre team potremmo parlare della disfatta McLaren che torna a fare è il mistero dopo il podio di Imola è il mistero è il mistero McLaren lo sappiamo dovremmo parlare di un Alpine che secondo me è ancora più il mistero della McLaren poi sai da fan in qualche maniera in senso buono di Fernando Alonso seguo sempre una certa attenzione faccio una grande fatica a capire quale sia la performance in questo momento di un Alpine veramente a due facce soprattutto tra la qualifica e la gara problemi di affidabilità di ogni tipo insomma anche lì per essere un costruttore ci sarebbero molte cose da dire eccetera eccetera quindi non mancheranno gli argomenti in ogni maniera anche settimana prossima noi vi salutiamo vi rimandiamo sempre quindi a lunedì prossimo in diretta ore 19.30 oppure in podcast dove volete quando volete grazie a tutti buona serata buona settimana ciao